Palestina e Israele. È complicato. Beh, almeno questo è quello che alcune persone vorrebbero farti pensare. Da tempo ci è stata venduta la narrazione di un gioco di razzi occhio per occhio, di una guerra immobiliare. Disputa o addirittura una faida religiosa secolare. C'è molto di più nella storia della Palestina, tutti dobbiamo sapere. Allora, come siamo arrivati qui? Riportiamolo all'inizio. Inizia con la fine di una guerra mondiale. I musulmani che combattono tra loro e una promessa fatta da l'Occidente solo un secolo fa. Quindi ecco come inizia la storia. È il 1916 e infuria la prima guerra mondiale. L'impero ottomano ha 617 anni a questo punto ed è sull'orlo del collasso. Gli inglesi e i francesi avevano promesso agli arabi la sovranità e la leadership araba. La penisola arabica e il Levante se li avessero aiutati a sconfiggere gli ottomani. E così gli arabi hanno detto ok. E così li hanno aiutati a sconfiggere gli ottomani. Ora so cosa stai pensando. Cosa c'entra tutto questo con la Palestina e la creazione? Di Israele? Fidati di me, ci arriveremo. Ok, quindi quando gli inglesi e i francesi vinsero, gli arabi bollero la terra promessa. Per loro, ma non sapevano, gli inglesi e i francesi avevano questo piccolo segreto. Incontro. E in questo incontro top secret, era previsto che la provincia ottomana catturata sarebbe stata catturata. Diviso in aree di controllo e influenza britannica e francese. Gli inglesi avrebbero ricevuto la Palestina, la Giordania e l'Iraq meridionale. Mentre i francesi avrebbero avuto il controllo. Turchia sudorientale, Iraq settentrionale, Siria e Libano. Questo è stato chiamato l'accordo Sykes-Pico. Ma poi gli arabi vennero a conoscenza di questo accordo e ne rimasero scioccati. Erano stati ingannati e ingannati. Pensavano di combattere una guerra per rovesciare i loro musulmani non arabi. Governanti, solo per ritrovarsi invece, avete indovinato, con i governanti coloniali europei. Comunque, questa è una lunga storia per un altro video. Ora che gli inglesi occupano una Palestina, in Europa sta accadendo qualcosa di insolito. Vedete, il movimento sionista era diventato sempre più influente e faceva forti pressioni per sostenerlo. Migrazione di massa degli ebrei in Palestina e riconoscere una rivendicazione ebraica sulla terra palestinese. E nel 1917, la Gran Bretagna, dal nulla, dichiarò pubblicamente la propria intenzione di fondare un paese. Una sede nazionale per il popolo ebraico in Palestina. Quindi gli inglesi hanno appena regalato agli europei la Palestina, un paese composto per il 90% da palestinesi. Sionisti. L'hanno dato proprio come si darebbe una scatola di cioccolatini. Gli storici dibattono ancora oggi su come e perché gli inglesi diedero la Palestina ai sionisti. È semplicemente sconcertante. A questo punto, la popolazione ebraica in Palestina a quel tempo era inferiore al 10%. Così gli inglesi iniziarono a facilitare l'immigrazione degli ebrei europei in Palestina. Dal 1922 al 1935 la popolazione ebraica salì al 27%. Con il mandato britannico in pieno svolgimento, l'immigrazione ebraica di massa in Europa ha avuto un significato ancora maggiore. La terra sarebbe stata sequestrata e la popolazione palestinese nativa sarebbe diventata sempre più preoccupata. I palestinesi avrebbero manifestato le loro preoccupazioni ai loro signori britannici, ma non lo avrebbero fatto. Averlo. Gli insediamenti ebrei europei erano in aumento. Gli inglesi proposero una spartizione della Palestina e addirittura consigliarono la rimozione forzata della Palestina. Popolazione araba dalle loro case. E sì, questo era il loro piano per risolvere il problema. Quindi i palestinesi naturalmente rifiutarono e si ribellarono agli inglesi. Le rivolte furono represse violentemente uccidendo migliaia di palestinesi. Ma i palestinesi non si arrenderebbero. Avrebbero continuato la loro lotta per l'indipendenza e gli inglesi erano chiaramente stufi. Così, nel 1947, gli inglesi decisero di cedere la responsabilità della Palestina al Regno Unito. Nazioni unite. Quindi, in pratica, hanno semplicemente detto, ecco, pulisci il nostro pasticcio. E così l'ONU ha proposto questa ridicola proposta di spartizione della Palestina. Uno stato ebraico e arabo. Ricordate, gli ebrei in Palestina costituivano solo un terzo della popolazione, la maggior parte della quale. Arrivati dall'Europa qualche anno prima eppure nella proposta veniva loro assegnato il 55% della terra. Sentendosi come se avessero ottenuto un cattivo accordo. Ancora una volta, gli arabi respinsero la proposta e i sionisti. Accettati. Tuttavia ecco il problema. I sionisti non erano d'accordo sui confini proposti. E fece persino una campagna per più terra. Quindi hanno accettato uno stato israeliano ma non hanno accettato le sue dimensioni. Quindi possono semplicemente scegliere. Farlo per se stessi. Nel 1948, la milizia sionista avrebbe preso d'assalto e catturato i villaggi e le città popolate da palestinesi. Lasciando migliaia di palestinesi senza casa e senza terra. I sionisti volevano impossessarsi e ripulire quanta più terra dalla Palestina prima degli inglesi. Ritirerebbero ufficialmente le loro forze. E lo stesso giorno in cui se ne andarono, i sionist proclamarono la fondazione del nuovo Israele. Stato. Da un giorno all'altro milioni di palestinesi hanno perso il loro paese. E la cosa ancora più bizzarra è che immediatamente le due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica riconobbe il nuovo Stato di Israele. E se le cose non potevano andare peggio, il 15 maggio 1948 fu forse uno dei giorni più bui della Palestina. Storia. L'hanno chiamata Nakba, o Catastrofe. Perdere il proprio paese, la propria identità e la propria casa in un attimo è qualcosa di veramente orribile. Ma questo non era abbastanza per quegli uomini, donne e bambini palestinesi. Dovevano essere sottoposti a pulizia etnica dalle loro terre e condotti verso una distruzione quasi totale. Vedete, la creazione dello Stato di Israele non significava solo la presenza di 1,9 milioni di palestinesi. Costretti a lasciare le proprie case, non significava solo che lo avesse fatto il 78% della Palestina storica. Stato preso dai suoi nativi, non significa solo che 530 villaggi e città furono distrutti. E pulizia etnica e non significò solo l'uccisione di 15 mila palestinesi. Una serie di atrocità di massa. Significa che è stato l'inizio di qualcosa di ancora più orribile per il popolo palestinese. Ha segnalato oltre 70 anni di occupazione, demolizioni di case, arresti arbitrari, spollamenti, espansione israeliana, posti di blocco militari, costruzione di muri, discriminazioni, massacri e bombardamenti. Di uomini, donne e bambini innocenti nelle loro stesse case. Quindi no, non è complicato. I palestinesi sono un popolo che è stato oppresso e a cui è stata portata via la casa. Da loro e da allora soffro. È così che gli eventi del passato.